quante volte hai sentito parlare di religione e quante altre volte hai sentito parlare di spiritualità bene sono due cose ben distinte la religione ci deve aiutare a mostrarci la via ci deve aiutare a guidarci nel trovare risposte idee suggerimenti ci deve aiutare a creare quella fortezza quel tempio che può essere facilmente dimostrabile con vari racconti di persone o altri ricercatori ma la spiritualità è ben diversa la spiritualità nasce con la tua ricerca nasce con la tua esperienza è come dire quando vai da un prete un pastore gli chiedi ma conosci realmente dio conosci realmente chi era gesù e tante persone ti possono rispondere sì conosco la bibbia a memoria e tante altre persone ti possono dire sì conosco dio e conosco gesù perché lo sento nel mio cuore perché lo sento dentro di me e voglio lasciarti una frase o meglio una citazione di san paolo secondo seconda lettera ai corinzi e dice così non fissiamo sto leggendo ovviamente non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili ma su quelle invisibili perché le cose visibili sono di un momento quelle invisibili sono eterne potente è come messaggio quindi ti fa capire che se tu fai una ricerca interiore se lavori sulle tue immagini lavori sulle tue simbologie lavori su tutto il tuo processo interiore a livello di esperienza inizia a sentire dentro di te quel messaggio che arriva chiaro forte chiaro perché se lo sentiamo impariamo a sentirlo ci arrivano ci arrivano delle informazioni importanti ma purtroppo cosa accade 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 a me accade a tutte le persone che vivono in una città o comunque vivono in un paese chiaro che se vivi su una montagna queste cose che ti sto dicendo magari passano in secondo piano se vivi in una città siamo bombardati da che cosa da mille interferenze da mille pensieri mille informazioni e poco poche volte ci focalizziamo sul nostro silenzio interiore andiamo a casa accendiamo la radio andiamo a casa accendiamo la televisione saremo in macchina accendiamo la radio oppure andiamo a casa e parliamo di 200.000 cose magari utili o non utili poi tutto da vedere ma quante volte stiamo nel silenzio quante volte ricerchiamo quella saggezza che è dentro di noi ed è per questo che ho inserito nell'ultimo capitolo nel mio libro inventa la tua vita la parte spirituale perché otto principi sono importanti sì deve esserci una ricerca interiore una ricerca che è sia collegata alla nostra spiritualità e non per forza a una religione ok quindi è importante sì che esistano delle religioni perché devono essere un mezzo una strada una guida come dicevo prima ma devono essere altrettanto importanti queste religioni che ci guidino nella direzione giusta e se invece questo non succede perché percepisci che la religione non non sia non faccia tuo caso allora prova a lavorare sulla tua sul tuo silenzio interiore entrare nella tua pace interiore stare in montagna stare in mezzo alla natura stare con le persone che hanno voglia di entrare in questa frequenza in questa sintonia che è la spiritualità poi la spiritualità si trova in qualsiasi forma ok la puoi trovare in un fiore la puoi trovare in un insetto la puoi trovare un animale in qualsiasi forma se tu inizi da oggi aprire quei canali e non sempre sono attivi quei canali ma bisogna un po lavorarci quotidianamente sono sicuro che troverai le tue risposte collegate alla spiritualità se vuoi invece accelerare questo percorso ti suggerisco il mio libro inventa la tua vita qui sotto c'è il link dove ti porterà direttamente nella mia pagina e lì potrai ricevere tutte le informazioni del caso del cos'è il libro cosa fa il libro come funziona il libro e come utilizzarlo ok se ancora non l'hai fatto qui sulla tua destra c'è un tastino iscriviti e ci vediamo al prossimo video prossimo giovedì ore 12 ciao ciao